Il Comune di Napoli scende in campo per tutelare il Centro Storico Patrimonio Unesco. Presentato a Palazzo San Giacomo, il pacchetto di misure per limitare il proliferare gli esercizi commerciali. Una stretta che riguarda principalmente bar e locali. Per un periodo di tre anni non potranno essere aperte nuove attività di somministrazione di cibi e bevande, nonché di produzione, preparazione o vendita di prodotti alimentari. Uno stop alle licenze dunque che si associa anche al divieto di ampliamento delle attività già esistenti. Obiettivo? La salvaguardia di aree pubbliche aventi valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico, tutelando allo stesso tempo le attività tradizionali, per le quale non sono previste limitazioni, e soprattutto la qualità di vita dei residenti. I provvedimenti sono stati presi d'intesa con la Regione Campania e in accordo con la soprintendenza, ad illustrarli alla stampa l'assessore al turismo del Comune di Napoli Teresa Armato, assieme al sindaco Gaetano Manfredi. Sono delle regole, sono delle prescrizioni che secondo me aiuteranno il commercio innanzitutto, aiuteranno la tutela di una zona della città particolarmente bella e particolarmente amata, non solo dai nostri concittadini, ma anche dai turisti che vengono sempre più numerosi nella nostra città, proprio per vedere alcune zone caratteristiche. Queste regole aiuteranno anche la possibilità, io la metto così, l'ho detto ai commercianti, mi fa piacere di dirlo, di rilanciare alcune attività commerciali che non siano pizzetterie, sprizzerie, frigitorie, ma che siano altro che magari siano cose artigianali, attività artigianali, attività commerciali di altra natura, basate pure esse sulla qualità di produzione della napoletanità, diciamo così. Credo che noi abbiamo la necessità di un piano di valorizzazione dell'offerta commerciale nel centro storico, perché noi abbiamo bisogno di un'offerta di qualità che intercetti sia i bisogni dei cittadini che del grande afflusso turistico che abbiamo in città, bisogna alzare la qualità, per far questo abbiamo la necessità di avere un sistema regolato, perché una completa deregulation, non l'abbiamo visto, sicuramente non ci consente di avere quella qualità che la città si merita e che deve avere.